Si chiama Luigi Camporota, ha 50 anni di età ed è, o meglio sarebbe, perché non sono sicuro, il medico che sta curando in questione di tempo Boris Johnson, il primo ministro, quindi il governatore tra virgolette, del Regno Unito dell'Inghilterra. Luigi, il medico 50enne italiano ovviamente, è colui che sta curando, starebbe curando Boris Johnson. E' un medico italiano, una persona dunque per bene in gamba autorevole, molto brava, molto competente nel suo lavoro, e sta curando, come si legge su internet, sul web, il buon Boris Johnson, il primo ministro dell'Inghilterra, del Regno Unito. Boris Johnson, che all'inizio di questa pandemia era scettivo, era piuttosto scettivo, se non ricordo male, dell'esistenza di una pandemia in atto, e che di fatto è attaccato, o mai a situazioni di difficoltà, nel vivere una vita serena e tranquilla, per colpa di questo coronavirus ariascovid-19, va bene? Grazie al video, grazie per l'ascolto, grazie per la visione, iscrivetevi, commentate, complimenti al buon Luigi, per la cura efficace che sta dando a Boris Johnson. Questo video non vuoi vedere la prevede del dottor Luigi, né di Boris, ma solo informare eventuali persone. Ciao, grazie, da Leandro.